Educata a manetta, la presa di posizione del Biela Rugby ha caratterizzato dal punto di vista dello sport la settimana che porta alle elezioni. Il presidente Filippo Musso, a nome anche dell'intero consiglio direttivo, ha ritenuto doveroso sottolineare la natura apolitica e apartetica della società gialloverde. Con eleganza, la nota diffusa dalla Clubhouse evita di fare i nomi, ma in questi giorni alcuni candidati hanno chiesto di visitare le strutture di via d'acquisto. E noi siamo stati orgogliosi di mostrare quanto fatto sia da noi che da diverse istituzioni pubbliche nel corso degli anni, afferma Musso, che però puntualizza. Nessuno deve accostare i nostri colori a qualsiasi fede politica o candidato, a tutti i livelli possibili. Non possiamo certo rispondere di chi si fa scattare foto nella nostra struttura o delle modalità di comunicazione dei vari uffici stampa, ma rigettiamo ogni possibile o eventuale accostamento. Le porte restano aperte a tutti, ma il Biela Rugby si occupa di sport. Vogliamo dialogare con tutte le istituzioni pubbliche, chiunque si candidi a rappresentarle, da noi è il benvenuto, augurandoci che la prossima amministrazione comunale continui nel percorso di valorizzazione e sviluppo della nostra associazione, conclude il presidente. A livello sportivo, il Biela Rugby ha intanto annunciato altri due nomi importanti, reduci da una convincente stagione. Il numero 10 sarà ancora cucito sulle spalle di Santiago Gilligan, mediano di apertura che non ha deluso le attese, visione, forza, velocità, piede educato, sfiora l'80% nelle trasformazioni e una valanga di mete. Gilligan troverà pane per i suoi denti nella nuova Serie A1, il campionato selettivo che precede la Elite e che radunerà le 10 migliore squadre del secondo livello nazionale. Un infortunio negli ultimi mesi non ha messo in dubbio la sua permanenza. Meno spettacolare ma altrettanto necessario in mischia è Emanuele De Lise. Il pilone canavesano era anche lui alla prima esperienza all'ombra del mucrone ma non ha avuto dubbi. Scavallata la serra, anche De Lise ha trovato nel Biela Rugby una società sana e seria e nella città vibrazioni positive. A riaccoglierli è il direttore sportivo Corrado Musso che dice l'asticella si alza e poter contare su due pedine come loro sarà di aiuto a tutti.